Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi volevo parlarvi di come sistemare la cabina armadio, darvi qualche spunto. Per chi ancora è in costruzione della cabina armadio, vi consiglio sempre di fare una piccola finestrina, molto utile per il cambio dell'area. Avere comunque una sedia all'interno della cabina armadio in modo tale da avere un appoggio quando ci cambiamo e mettere i vestiti pronti per essere usati. Poi la seconda cosa che voglio consigliarvi è di lasciare una prima parte dedicata alla donna e una seconda parte dedicata a tutto uomo. Allora, partiamo con la prima parte dove mettiamo tutti i piumini, tutte le giacche, giacca a vento, smanicati, così andiamo velocissimi, prendiamo al volo la giacca che ci serve e sappiamo subito dove trovarla. Passiamo giù, questo molto comodo, dove troviamo solo ed esclusivamente i pantaloni. Per essere ancora più ordinati e veloci possiamo dedicare il primo spazio ai jeans, il secondo spazio alle tute. Andiamo sempre dalla parte superiore dove troviamo solo ed esclusivamente maglie, così sempre per essere super veloci nella scelta della maglia, sappiamo subito dove trovarla. Nella parte sottostante andiamo a mettere, se non abbiamo tempo, tutto l'estivo, se non abbiamo tempo di fare il cambio armadio, quindi estivo, mare e magliette, pantaloncini, costume, eccetera, eccetera, per poi proseguire nella parte donna nello stesso identico modo. Grazie mille, spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale. Grazie, al prossimo video!